Computer fuori uso, semafori spenti e addirittura negozi costretti a chiudere. Sin dalle prime ore del mattino, erano circa le 3, un guasto ha compromesso l'erogazione di energia elettrica nella zona tra Piazza Duga d'Aosta e Piazza Italia a Pescara. Una porzione piuttosto limitata ma dove ci sono comune uffici dell'URP che hanno dovuto sospendere ogni attività, uno degli incroci stradali più importanti della città con semafori spenti e conseguente disagio al traffico, oltre a diversi negozi di varie attività che come abbiamo visto hanno esposto cartelli di chiusura. Il guasto, anzi i due guasti rilevati lungo un cavo interrato, è stato riparato intorno alle 11 dal personale di e-distribuzione. Attraverso manovre di telecontrollo, ovvero da remoto, è stato prima individuato il tratto di cavo danneggiato e quindi ripristinato il servizio. Per la serie tutto è bene, quel che finisce bene.